ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video vlog barra che che diccio come state spero bene niente questo video vlog per parlare un po con voi farvi vedere un'altra volta altre cose che ancora mi devo applicare tipo questo smalto qui che ancora non l'ho applicato e sarebbe questo qua non so cosa si possa vedere perché mi sono messa contro luce quindi non so quanto si possa vedere e niente quindi come dire praticamente mi sono messa in contro luce perché non sape altro di mettere quindi niente spero che si veda bene sto video e spero che si veda bene anche più che altro come lo sto mettendo io questo video e niente non so altro come mettermi quindi sto registrando sempre con un telefono quindi nulla innanzitutto ci tengo a precisare che oggi fa un caldo allucinante ma finché dura tutta l'estate penso che sarà così per tutti io non so più come mettere sto benetto a telefono e niente quindi che dire a proposito ho fatto un'altra scoperta che credevo di non avere più questa della roccia della roccia appunto e questa qui è da 12 mesi di pao più 50 mole di prodotto e non sapevo di avercela stamattina appunto andando a ripescarla tra la borsa del mare vecchia che avevo che tra l'altro non ho più usato ma vabbè dettagli ho utilizzato questa qui per uscire di casa e andare a fare una bella passeggiatina sarebbe questa qui che potete anche vedere voi già e niente poi un'altra che non so dove l'ho messa nella borsa sempre del mare questa volta ho cambiato la borsa del mare vedete questo è il tracollo no non il tracollo con i manici che la potete portare anche a spalla volendo dentro c'è un costume la l'asciugamano e anche come dire la protezione non solo ve l'ho messa sperando di trovarla perchè qua non so dove ve l'ho cacciata ah ok aspettate un secondo che credo che ce l'ho qua da queste parti insieme alla protezione solare per i capelli vedete due in uno allora una è questa qui per la faccia per il viso ovviamente e l'altra è una lozione corpo most racing che non so cosa vuol dire a dire però lo so ma non mi ricordo cosa vuol dire perchè vi ho detto già parecchie volte in parecchi video che ho un livello medio di sapere le lingue tipo il francese lo so vabbè non voglio di pagare comunque l'inglese lo so ma la pena perchè l'ho dimenticato ma qui non sto troppo a entrare in dettagli most racing vi ho detto non mi ricordo cosa vuol dire comunque una lozione spray l'ultimo vuol dire lo so cosa vuol dire perchè me lo ricordo almeno quello mentre questa è una 50 più UV per proteggere appunto sempre del sole a spray vedete questa è la spray non so cosa vi sto facendo vedere però ecco questo è il spray sto guardando da dietro lo specchio da dietro la telecamera perchè c'è lo spicchio poi 50 ml di prodotto uno spray da labio point ed è eccolo qua per capelli e niente questo è quanto quindi 3 prodotti che fanno tutto il corpo come potete ben vedere eccoli qua già e nulla poi in frattempo sto usando un detergente un detergente per allora aspettate che qua voglio vedere se mi riesci di oh no non è così o forse così si è così potevo pensarci come registrare boh vabbè ok senza che foddanni ok adesso ci siamo più o meno siamo lì allora devo facendermi la prima vabbè io non so cosa possiate vedere ma io dallo schermo non mi vedo bene boh vabbè voglio mettere meno ok in modo che mi si veda bene allora qua lo specchio non mi piace come ho messo mi vedo strano e basta ragazzi altro non so cosa farvi vedere perché ah ho finito un bagno schiuma che mi è piaciuto molto ed è quello della vidal al talco al talco sì talco liquido questo qui è della vidal molto buono fresco e profumato sì come se non profumate io va bene comment molto buono sì mi piace questo qui vedete sì allora il pago è sempre lo stesso da 12 mesi più 50 ml di prodotto eccolo qua si vede qualcosa spero di sì se tolgo le dita forse non so cosa sto facendo vedere perché ripeto sto registrando tutto con la telecamera frontale sperando che si veda tutto bene perché con la telecamera frontale non frontale sì ciao buonanotte con la telecamera posteriore mi è stato detto 3 miliardi di volte che registra molto meglio di quella posteriore non lo so se sia verde quella anteriore non lo so come dire comunque penso di essere mi spiegata quella posteriore fa bene i video mentre quella frontale non tanto ma vabbè io a volte mi adatto a quello che mi dicono ma poi a volte faccio di testa via adesso per esempio non so come verrà questo video spero venga bene è nulla oggi vi ho messo qua il profumo questo qua del non so che marca sia parma non so manco che promo sia della no che provenzali che sto dicendo questo qui farmacia della farmacia molto buono molto gradevole mi piace e niente ragazzi questo era tutto a presto ciao ciao